Che tristezza ragazzi Che tristezza Quante forme fisiche e contratti Eccetera eccetera Tengo in questo club mamma mia Che ne devo fare Devo prestare l'account a qualcuno Che me lo deve mettere a vendere tutto il giorno Allora prossimo pacchetto Prossimo pacchetto Prossimo pacchetto siamo pronti Abbiamo altri 132.000 Crediti quindi Altri 3 pacco penso che possiamo aprire 2 milioni ci fermiamo Dedichiamo il pacco Chi è? Ma chi è? Ma avete sentito un urlo pure voi? Lo sento solo io Ho sentito un urlo Ma forte Che è stato? Boh Boh Mi lascio una orecchia scoperta perché Ho sentito di urlare Ho sentito un antifurto Bah Succede una cosa C'è stato E fallo una tutozza E fallo una tutozza Si toni L'abbiamo sentito anche noi Si è sentito Che era? Mi sono cagato sotto Io vi giuro Ho avuto paura Ho detto Questa qui è? Questa qui è? Desculpa Uè Guè Oh Aspetta ragazzi Aspetta Questa è un uomo Questa è un uomo Questa è un uomo Di essere dal vano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti